Grazie. 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 Traders ed investitori, benvenuti. Sono Davide Bergamaschi e lavoro sulla piattaforma di Interactive Brokers dal 2011. Finalmente tocca a me. Hanno iniziato da lunedì i miei colleghi, amici, trader a fare eventi didattico-operativi sia in questa fascia oraria che dalle 21 fino alle 21.45. Torno anch'io sulla piattaforma, molti di voi mi conoscono già, infatti saluto Paolo, ciao, ciao Angelo. Paolo addirittura è collegato con l'iPad al cavo TV, quindi sono registrato praticamente per tutta casa, la mia voce riecheggerà per tutta casa. Saluto anche il mio compaesano, Ivo, da poco arrivato nella community di assistenza brokers. In particolare oggi, cosa saprete fare al termine di questa sessione? Saprete maneggiare un grafico su Interactive meglio delle vostre tasche. Vi do un secondo lo schermo. Ed eccoci qua, sulla piattaforma. Innanzitutto, questa qua sarà, come vi dicevo, una sessione prettamente didattica sull'utilizzo dei grafici di Interactive Brokers. Partiamo subito con la domanda fondamentale, come aprire un grafico. Ci sono tantissimi modi, ve ne farò vedere solamente due, che sono i più immediati. Il primo è quello di selezionare col sinistro il nostro sottostante. Come vedete, io ho inserito in una cartella vuota il contratto Euro-Dollaro. Una volta selezionato col sinistro, andremo in alto sulla voce Chart. Gli diamo un clic, sempre col sinistro, e vedete che il grafico è apparso. Un altro modo molto semplice per andare a caricare un grafico è quello di cliccare col tasto destro del mouse sul contratto e prendere la voce Chart e New Chart. Questo piccolo procedimento. Anche qua, clicchiamo col sinistro e il grafico si apre. Allora, innanzitutto andiamo ad analizzarlo in vari settori. Ovvero, abbiamo in alto evidenziato una riga informativa del nostro titolo, periodo di temporale e i vari menu di configurazione. Il corpo principale, che ovviamente è il grafico, e una parte operativa, che vi sto mettendo in un rettangolo, che è la parte in basso. Procediamo dall'alto verso il basso. Abbiamo in alto a sinistra il contratto, che abbiamo detto che è l'euro-dollaro. Subito, alla sua destra, abbiamo il periodo temporale, dove, cliccando col sinistro, apparirà questo menu a tendina. In particolare, noterete tre fasce di colori. La prima fascia, in azzurra, in olilla, va ad indicare un periodo temporale delle candele. Quindi noi andiamo a stabilire quanto vogliamo che valga ogni singola candela. Diamo un piccolo esempio. Prendiamo 30 minuti candele. Se clicchiamo col sinistro, il grafico cambierà e ogni candela che vedete sul vostro schermo vale 30 minuti. Cosa importantissima, non abbiamo un arco temporale, perché utilizzando la rotella del mouse, come sto facendo io ora, riusciamo a fare uno zoom sia a ingrandimento che in riduzione del nostro grafico. Ovviamente, in base al periodo temporale della candela che andiamo a selezionare, il sistema andrà indietro nel tempo fino a che il risultato è abbastanza visibile. Non ci aspettiamo 30 minuti candele che vanno indietro di 6 mesi, perché altrimenti ci vorrebbero veramente una dozzina di schermi. In questo caso, con candela 30 minuti, va indietro fino al 17 di agosto. Stessa identica cosa, ovviamente, con tutti gli archi temporali delle candele nella fascia azzurra, mentre la fascia centrale, quella più utilizzata, color rosa pesca, equivale a una doppia selezione. In particolare abbiamo nella prima selezione l'arco temporale che vogliamo visualizzare. Io voglio vedere l'euro dollaro su base, su un arco temporale, che ne so, di 6 mesi. A questo punto apparirà, alla destra, dove sono io ora col mouse, un altro menu a tendina, dove lì andremo a stabilire la durata di ogni singola candela. Facciamo un esempio, voglio vedere l'euro dollaro, arco temporale, 6 mesi, candele giornaliere. Quindi, 6 months, che sono 6 mesi, daily candles. Gli faccio un click e, automaticamente, io so già che sono 6 mesi di euro dollaro e ogni candela vale un giorno. Se uso la rotella del mouse, non andrà avanti e indietro del tempo, perché gliel'ho appena indicato nella mia selezione. Cosa va a fare? Va a fare uno zoom a livello di spessore delle singole candele, come sto facendo io ora. Mentre l'ultima fascia temporale, quella in verde chiaro, va ad indicare tutti gli archi temporali che abbiamo salvato, o i vari studi che abbiamo salvato in modo precedente. Ed è possibile andare a richiamarli in questo modo. Ma comunque vi farò vedere un altro modo molto più pratico per andare a salvare tutto il vostro settaggio di lavoro. Passiamo ora al menu file. Nel menu file ci sono, praticamente, tre voci fondamentali. La prima è Create New Tab. Cosa permette di fare Create New Tab? Permette di andare a creare un paniere di grafici senza andare ad aprirne 250. Cosa comporta tutto questo? Una riduzione a livello di banda e anche una maggiore organizzazione. In che modo si va a creare un nuovo tabulato? File, Create New Tab. Apparirà questa schermata nera. In alto a sinistra andiamo a inserire uno strumento. Per esempio prendiamo Apple. E come vedete mi ha inserito il sottostante. Clicco ancora sul più. Vado a prendere un secondo sottostante. Per esempio Facebook. Anche qui vado a ricercarlo con vari parametri. E qua mi appare il terzo grafico. La cosa fondamentale è che con un semplice click come sto facendo io ora. Io riesco a spostarmi da un grafico all'altro. E vi dirò di più. Riesco anche a modificarli singolarmente. Non è detto che tutte le caratteristiche che ho utilizzato sul primo grafico. Che ho aperto quindi l'euro dollaro. debbano essere mantenute anche sugli altri due, tre, quattro, tutti quelli che volete. Ogni grafico è sì racchiuso in questo tabulato. Ma lavora per conto proprio. Nulla vieta di andare a visualizzare Apple a candele di cinque minuti. Nulla vieta Facebook di andare a visualizzare un arco temporale, per esempio, di un anno con candele settimanali. E andremo a vedere che l'euro dollaro è rimasto invariato sul sei mesi a candele giornaliere. Per andare a cancellarlo, un tabulato, basta cliccare sulla X e il grafico viene automaticamente cancellato. Seconda voce veramente importante dei grafici a livello di organizzazione e di creazione del vostro ambiente di lavoro ideale è Add Chart to Window. La seconda voce. In questa sezione apparirà una finestra dove come primissima cosa dobbiamo andare a inserire un sottostante in prossimità della freccia gialla. Qui andiamo a inserire il nostro strumento, riprendiamo per comodità Apple. A questo punto possiamo andare, volendo, a modificare già da questa finestra vari periodi temporali che abbiamo appena affrontato. E tutte le altre voci e funzionalità aggiuntive. Una volta che l'abbiamo settato come piace a noi, gli diamo l'ok. Guardate cosa appare. Non più un paniere di grafici, quindi un grafico su ogni schermo, ma bensì due grafici che dividono esattamente lo schermo a metà. È ideale, un piccolo spunto operativo, andare a inserire magari per analisi sullo stesso strumento, appunto, un euro dollaro per esempio a un periodo temporale medio-lungo e, se si opera nel breve, andare a reinserire l'euro dollaro magari a un periodo molto più breve. Dipende sempre dalla vostra operatività. È molto utile questa funzione, mi viene in mente, anche per fare dei confronti con gli indici. Io guardo l'andamento di Apple 6 mesi, barre giornaliere, vedo l'indice di riferimento, cioè il Nasdaq 100, con lo stesso periodo temporale e vado a notare delle differenze. Insomma, è molto utilizzata soprattutto per analisi. A questo punto, una volta che abbiamo utilizzato le due voci di gestione e creazione dei vari grafici, abbiamo le nostre basi per andare a costruire tutto ciò che riguarda la personalizzazione dei grafici su Interactive Brokers, volendo possiamo andare a salvarlo. In che modo? Dal menu File prendiamo la voce Save Chart, non Chart Image, perché Chart Image fa solamente un'immagine che si può solamente stampare, non mi pare il caso. Save Chart permette di salvare il periodo temporale che abbiamo selezionato e annesso anche gli studi. Ovviamente, una volta salvato, per andare a richiamare un grafico appena salvato, faremo lo stesso percorso, questa volta cliccheremo su Open e riprenderemo la voce Chart. Ma questo lo vedremo dopo che vi ho spiegato gli studi. A proposito di studi, dove li troviamo? Dal menu Modifica, quindi Seconda Voce, e prendiamo anche qui la seconda voce che è Studies. Come vedete su Interactive Brokers ci sono tantissimi studi che si possono applicare al nostro grafico. Io personalmente non sono un amante di grafici colorati, quindi tengo solamente i due o tre studi classici, chiamiamoli così. Come vedete nel menu di sinistra sono racgruppati tutti gli studi disponibili e nella voce Applied Studies verranno inseriti e monitorati tutti gli studi che andremo a inserire. In particolare, per andare ad aggiungere uno studio o clicchiamo sul più presente in prossimità di ogni macro categoria e come vedete nel menu a tendina si aprirà. Andremo a selezionare con un doppio clic lo studio che ci interessa. Noterete che è finito nella colonna di destra Applied Studies, quindi gli studi che in questo momento io voglio che vengano applicati al nostro grafico. Ne prendiamo ancora uno giusto per riempirlo un pochettino. Ok, perfetto, anche qui facciamo un doppio clic e come vedete sono stati inseriti nella colonna di destra. Questo è molto importantissimo nel caso non si volesse più tenere uno studio all'interno del nostro grafico, basta selezionarlo col sinistro e cliccare sulla voce Remove in prossimità del mio mouse. Come vedete lo studio è stato rimosso e per andare a richiamarlo ovviamente un doppio clic. Appena sotto gli studi possiamo andare a modificarlo a seconda delle nostre analisi che vogliamo fare. Ovviamente sia a livello anche di colore ma anche di configurazione per i vari periodi, per varie larghezze all'interno del grafico. Insomma si può fare praticamente tutto all'interno dei grafici di Interactive. Una volta che abbiamo creato il nostro layout, applica in basso e ok, vedete che gli studi sono stati inseriti all'interno del grafico. Una cosa importantissima relativa agli studi è di non andare a personalizzarli come vi sto facendo vedere io ora all'interno del grafico stesso. Tenete sempre un'unica linea guida. Per esempio, tenete sempre modifica studi se volete togliere, aggiungere tutte le caratteristiche al vostro grafico. Non andate ad agire sulle singole linee perché c'è il rischio che magari si creino delle situazioni di confusione. Tenete sempre sui grafici o anche in generale sulla piattaforma, soprattutto per chi ha da poco abbracciato il mondo di Interactive Brokers, tenete sempre un'unica linea che va più che bene. Ora facciamo finta di salvare questo nostro modello grafico. Io voglio che, in questo caso ho aggiunto le bande di Bollinger e la RSI, voglio che tutti i grafici che andrò ad aprire, voglio che abbiano, dal momento che li apro, già salvati e caricati questi due studi. E' possibile farlo? Assolutamente sì. E vi faccio vedere come. Dobbiamo andare sul menu File, prendere la voce Save Chart Template As, che è la voce appena sopra a stampa. A questo punto noi diamo un nome, per esempio Webinar Grafici, e clicchiamo su Salva. Per andare a richiamarlo, come vi ho mostrato poco fa, dal menu File andiamo su Open Chart Template e vedrete che Webinar Grafici è l'ultimo della lista, io posso andare a caricarlo in qualsiasi momento. Facciamo giusto una prova del 9, prendiamo un altro cross, Euro Yen, apriamo il grafico, come vedete non è presente alcuno studio su questo strumento, dal menu File, Open Chart Template, Webinar Grafici, Load, Carica. E vedrete che con un semplice clic gli studi sono stati applicati al nostro grafico. Altra cosa importantissima, se proprio vi scoccia fare due clic in più per andare a caricare i vostri studi, potete già settarlo come predefinito. In che modo? File, Open Chart Template, Webinar Grafici, anziché Load, andiamo prima a selezionare la voce Set as Default, imposta come predefinito. Se noi gli diamo il quadratino, andiamo su Load e vedrete che tutti i successivi grafici che andrò ad aprire, per esempio andiamo su Dow Jones 30, voglio aprire, che ne so, il grafico di Microsoft, seleziono col sinistro, vado in alto su Grafico e vedete che con un clic, io non ho toccato nient'altro, ho già inserito bande di Bollinger e RSI, perché ho detto alla piattaforma di applicarmi questi studi. Tutto chiaro finora? Datemi un feedback, giusto per vedere se è tutto ok. L'altro vi ringrazio, siete tantissimi, aspettavate proprio il mio webinar. Ok, perfetto, perfetto, ok. Allora, intanto che c'è questa piccola pausa, vi ricordo che sul nostro forum, se avete delle domande, andate su Community, Forum, nel caso non dovessi riuscire a rispondere a tutte le domande che avete inserito fino ad ora, nell'ultima voce del forum è presente la sezione Trader Workstation. Al suo interno ci sono sia i settaggi aggiornati settimanalmente dal sottoscritto, che, soprattutto per tutti quanti voi che avete dubbi e domande sulla piattaforma, in Domande TVS, cliccando su New Topic, potete andare a inserire tutte le domande che, ovviamente, andremo a rispondere sia negli appuntamenti settimanali di domande e risposte, andremo a prendere il best of, le migliori domande, che, ovviamente, andremo a rispondere anche in tempo reale, appena le avete poste. Ora che abbiamo capito come andare a personalizzare il nostro grafico, andiamo a vedere anche delle informazioni essenziali per quanto riguarda la modifica e configurazione del layout grafico. Sempre dal menu Edit, andiamo a prendere la prima voce che è Parametri Grafico, quella che è apparsa prima quando abbiamo creato un nuovo grafico alla finestra. Allora, in Parametri Grafico abbiamo visto nella prima parte che inseriamo in alto il nostro sottostante e andiamo a inserire il nostro periodo temporale. Soprattutto per gli opzionisti possiamo andare a inserire Volatilità Implicita e Volatilità Storica, vi faccio vedere dove. Qui è presente la voce Option Implied Volatility e subito qua a sinistra Historical Volatility. Queste sono tutte le funzionalità aggiuntive che si possono utilizzare per configurare al meglio il vostro grafico. È possibile anche per, soprattutto perché è un approccio di scalping, il reticolo, così saprete sempre valutare le vostre soglie di ingresso e uscita. E, altra voce importantissima, soprattutto per futures e azioni, è questa voce, Show Data Outside Regular Trading Hours. Se è selezionata questa voce, ci permette di visualizzare il titolo anche al di fuori dei normali orari di trading. Faccio esempio la stessa Microsoft, ma anche Apple e praticamente quasi tutti i futures americani non sono aperti solamente in sessione regolare, quindi 15.30.22. Solitamente si appoggiano anche su un mercato elettronico. Cosa significa? Mercato elettronico significa che ha delle fasce orarie molto più ampie. Un piccolo esempio, giusto per darvi l'idea di quello che vi sto dicendo. Prendiamo, per esempio, un future, prendiamo l'S&P. Vedete che in questa voce che vi sto cerchiando, la sessione regolare è 15.30.22.15. Però lo strumento è aperto da mezzanotte fino alle 22.15. Praticamente non chiude mai, anzi, da mezzanotte alle 22.15 e dalle 22.30 alle 23.15. Questo, al di fuori ovviamente dei normali orari che vi ho selezionato, vuol dire che è appoggiato ad un mercato elettronico. Mercato elettronico che, attenzione, significa minori scambi, spread tra bid e ask più alto, più ampio scusate, però è comunque aperto lo strumento e tornando a noi, al nostro grafico, in questo modo noi andiamo a decidere se vedere lo strumento anche al di fuori dei normali orari oppure se non ci interessa, ci concentriamo solamente sulla sessione regolare di trading, la teniamo, non la selezioniamo come ho fatto io in questo caso. Una volta configurato a dovere, gli diamo applica e ok, e tutte le voci che abbiamo utilizzato prenderanno forma. Altra voce importantissima sempre a livello di layout, questa è proprio una macro sezione del livello grafico, è Global Chart Configuration, ovvero le configurazioni globali del grafico. Se ci clicchiamo sopra, come vedete abbiamo già un display con numerose voci che possiamo selezionare, cioè un display cosa mostrare all'interno del nostro grafico. Abbiamo inoltre la possibilità di decidere come creare grafici multipli, se in tabulato, come abbiamo visto prima, se oppure in finestre interne, come che è stato il secondo modo che vi ho mostrato. A livello di layout possiamo decidere se spostare il pannello dei bottoni in alto, se tenerlo in basso, il pannello informativo del contratto, se spostarlo su, giù, a destra, insomma possiamo andare a personalizzare e soprattutto per far sì che l'occhio si abitui a seconda delle vostre esigenze, di come siete abituati, tutto il nostro grafico. Volendo anche il carattere e, dato che lo chiedete in tantissimi, i colori si trovano nella voce di sinistra che vi evidenzio in questo istante. Qua ci sono tutti i colori del grafico e nella parte di destra ovviamente potete andare a modificare tra tutte queste voci proposte. Vedete ce ne sono veramente, ma veramente tante. Ovviamente per ragioni di tempo non riusciamo ad affrontarle tutte, però andiamo a prendere l'essenziale. Ultimissime voci per quanto riguarda una struttura informativa, analitica del grafico sono le trendline e l'inserire i vari commenti dal grafico. Per inserire una trendline dobbiamo solamente tenere con il sinistro del mouse premuto e rilasciarlo rispettivamente dove abbiamo intravisto delle situazioni ideali. Questa ovviamente è una trendline spezzata, come vedete io ne posso aggiungere quante ne voglio tenendo semplicemente premuto col sinistro del mouse, per andare a cancellarle basta che tengo premuto col destro in prossimità di una di queste linee e rispettivamente la prima voce mi permette di cancellare solamente la riga selezionata, mentre la seconda voce, che è quella che ho cliccato ora, mi cancella tutto quanto, tutte le linee, tutte le linee che hanno in comune la stessa caratteristica. Detto in soldoni, tutte le linee spezzate in questo caso. Per andare invece ad aggiungere linee orizzontali o verticali, dobbiamo cliccare col tasto destro del mouse in un punto qualsiasi importante, non su una candela, e prendiamo la terza voce, modifica grafico, dove di default è selezionato l'inserimento di una linea spezzata. La seconda voce ci permette di inserire una linea orizzontale, che è quella che sto inserendo ora, per andare a posizionarla basta un clic col sinistro e ovviamente tenendo premuto la nostra linea possiamo andare a riposizionarla dove ci pare piace. L'ultima voce di edit chart è l'aggiunta di una trend line verticale, con le stesse modalità della linea orizzontale. Ultimissima funzione importante per la parte informativa del grafico è l'aggiunta di un commento. Per aggiungere un commento clicchiamo col tasto destro del mouse in un punto, anche qua in un punto qualsiasi, non sulla barra, e prendiamo la quinta ultima voce, add commentary. Clicchiamo col sinistro, piccola finestrella di modifica font e dimensioni del carattere, colore e sfondo del nostro commento, l'ultima voce che è quella diciamo più pratica che ci interessa, possiamo andare a inserire tutte le nostre considerazioni sullo strumento che stiamo analizzando. E, cosa importantissima, quando inserite un commento, mi raccomando, andate a salvare il vostro tabulato o il vostro grafico con i due modi che vi ho mostrato a inizio webinar, in modo tale che, una volta richiamato, tutto il vostro setup di lavoro non va in fumo, ma partite sempre da dove avete lasciato la volta prima. Per la parte informativa, direi che abbiamo fatto una rapida ma concreta carrellata. Ci sono due domande di Riccardo, posso? Sì, puoi. Vuoi che ti attivi l'audio, Riccardo? Io sono, poi mi conoscerete anche nel corso di questo trimestre, sono uno che interagisce molto. Come preferisci? Certo. Ti attivo l'audio. Riccardo, puoi parlare? Mi senti? Yes. Ok, ciao. Due domande. Una, come posso, per esempio, mettere una media mobile su uno studio come l'RSI? Allora, per quanto riguarda la media mobile sull'RSI, non penso ci sia. Io so che c'è la media mobile sul volume. Sull'RSI niente, quindi? Sull'RSI non penso. Comunque, sì, devo guardare perché, come... Ok. Mi sto facendo anche scorrere. No, 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 certo. L'aspetto anche sul forum, così anche tutti i partecipanti sanno la risposta e non solo io e te. Comunque, si guarda assolutamente. Seconda domanda. Bene, bene. La seconda domanda è, per esempio, ho provato a mettere le linee quelle orizzontali, no? E poi spostandole su e giù. Però non riesco mai a prendere un valore preciso. Non lo so, per esempio, io sull'RSI voglio sempre mettere la linea a 50. Perché per me è un segnale. Quindi io che faccio? Metto e però, andando su e giù, non riesco mai a beccare 50. Viene 50,1, 50,7. C'è la maniera di metterlo in maniera numerica. Ok, ok, no, no, ok. Allora, lì dipende, nel senso, lì è la piattaforma proprio che ti, nel senso, vai in scala non di, come vedi qua ci sono i millesimi, non vai in scala di millesimi, ma tende ad approssimare sempre più ad un valore unitario. Come vedi io qua sono ora su un 49 e 9,3,2, appena mi muovo minimamente va su un 54. Esatto, il 50, per pigliare il 50 preciso preciso, non c'è la possibilità di metterlo, per esempio, un'altra piattaforma che usavo, tipo la MetaTrader, schiacciavo sulla linea e mi apriva l'opzione anche numerica, cioè mettevo 50, per esempio, o 60, qualunque numero, e lui andava in automatico sul numero da me digitato. C'è questa possibilità? Non ancora, no, per ora no. Però è una buona idea, no? Assolutamente sì. Beh, ok. Nel senso che adesso tu lo so, già lo prospetterai. Assolutamente, io ho il potere, sì. Ok, comunque mi raccomando Riccardo, aspetto la domanda sul forum, così, nel senso, dato che è molto interessante la possibilità di combinare gli studi tra di loro, per la seconda, ovviamente, nel senso, mando una video, ovviamente, andiamo a vedere quant'altro, si mancherebbe. Certo, certo, certo. Una domanda, come faccio a metterti questa domanda sul forum? L'ho fatto vedere poco fa, non sei stato attento. Lo so, no, non è che lo sono stato attento, in quel momento mi è arrivata una telefonata che mi ha fatto, infatti l'ho maledetto. Lo faccio rivedere, non preoccuparti. Parto da capo. Allora, dal sito, ti ringrazio Riccardo, buona serata. Ciao. Lo faccio rivedere anche a tutti quanti. Dal sito dobbiamo andare su community e poi su forum. Mi raccomando, effettuate il login se non siete già iscretti. L'iscrizione porta via, se va male, un minuto, ma di numero. Una volta effettuato il login, l'ultima sezione, in basso, è trader workstation. Cliccateci pure sopra. Al di sotto sono presenti i settaggi che settimanalmente aggiorno con tutte le scadenze corrette e, diciamo, un layout come quello che vedete anche in questo webinar. La voce che interessa, dove ci sono tutte le domande presenti sulla piattaforma, che sono praticamente ormai più di due o tre al giorno, quindi stanno continuamente crescendo. Quindi ringrazio tutti quanti voi, oltre 1700 iscritti al forum. Cliccate su domande tvs, qua è presente una lista di tutte le domande finora affrontate. Se andate su new topic, vi permette di andare a scrivere un nuovo argomento. Mi raccomando, ripeto, bisogna essere loggati, bisogna essere registrati al forum, altrimenti, fate come me, new topic vi rimanda alla pagina di login. Quindi andate a effettuare anche in questo caso il login. In tempo record, io e anche tutti gli altri colleghi di assistenza brokers vi risponderemo e le migliori domande verranno riprese nel webinar settimanale di domande e risposte. Ok, perfetto, figurati Riccardo, e anche tutti gli altri ovviamente. Allora, la domanda di domenico rispondo dopo. Prima voglio farvi vedere il lato operativo della piattaforma di Interactive sui grafici. Allora, abbiamo visto fino ad ora come andare a inserire studi, salvare studi, caricarli, personalizzarli. Ora andiamo a vedere un'altra potenzialità. Interactive, come tutti voi sapete, è una piattaforma operativa. Quindi andiamo a vedere, molto brevemente, cosa si può fare, come possiamo sfruttarla al meglio. Possiamo, grazie alla barra presente sotto al grafico, operare direttamente dal grafico. In che modo? Di default, col nostro settaggio, abbiamo già caricato i pulsanti che più si utilizzano. Poi ovviamente per richieste speciali, contattateci o mettete la domanda sul forum, che andiamo a creare una struttura a parte, ideata ovviamente per le vostre esigenze. In sostanza, abbiamo un acquisto, una vendita, un pulsante di chiusura, di posizione, un alert che è semplicemente un avviso sonoro, una volta toccato una determinata soglia, da parte ovviamente del titolo, ordini bracket, take profit e stop loss, attaccate al nostro ordine d'ingresso che ci permettono di uscire in profitto se il titolo raggiunge la nostra soglia oppure di limitare la perdita evitando di bruciarsi il conto con un'operazione e se abbiamo, che è un attino più avanzata come funzione, se abbiamo tanti ordini a mercato ma non ancora, che non sono ancora entrati, possiamo andare a cancellarli tutti quanti. che è l'ultima voce, cancel all. In sostanza, per andare a comprare direttamente dal grafico basta un clic su piattaforma, andiamo, come vedete appare questa riga blu che è il nostro acquisto, possiamo andare a configurarlo in due modi, o trascinando il nostro ordine e rilasciandolo al prezzo che ci interessa, il prezzo lo vedete sia qua all'estrema sinistra che in basso, dove vi ho appena selezionato col mouse, dove c'è transmit, anche qui possiamo andare a modificarlo manualmente, cancelliamo e inseriamo il prezzo che ci interessa, per andare a cancellare un ordine che abbiamo inserito, mi raccomando inserito, non ancora trasmesso, noi lo stiamo solo programmando il nostro ordine, non siamo ancora a mercato, per andare a cancellarlo basta che clicchiamo col tasto destro, prendiamo la seconda voce che è discard, e l'ordine ovviamente viene cancellato, altra operazione con la vendita, stesso procedimento, un clic col sinistro inserisce la nostra vendita, stesse modalità, trascino col sinistro in alto e in basso, andiamo a vedere come si comportano gli ordini bracket, quindi quarto pulsante, anzi quinto pulsante della barra dei bottoni, clicco col sinistro e vedete che ha inserito una take profit, in caso l'operazione dovesse andare dalla mia parte, e una stop loss nel caso l'operazione dovesse andarmi contro, ma va a limitare la mia perdita, vi ricordo che per gli ordini, come per tutti gli altri appuntamenti sulla piattaforma, settimana prossima si trarà un webinar solamente dedicato a tutte le tipologie degli ordini su Interactive, sempre alla stessa ora 18.45, 19.30, a tal proposito e così concludo questo mio primo evento del trimestre, per andare a vedere tutti gli eventi in programma di assistenza brokers, sempre dal nostro sito, calendario eventi, terza voce, come vedete qua ci sono tutti gli eventi in programma, oggi ovviamente ci sono io con i grafici, stasera importantissimo mio collega, amico e trader, Stefano Corvi, preparazione intraday club, un modo di operare per i pigri come me che hanno 45 minuti al pomeriggio da dedicare, mi raccomando per andare a iscriversi ovviamente basta un clic sull'evento e in rosso clicca qui per iscriverti al webinar, diretta a partire dalle ore 21 fino alle 21.45 circa, mi raccomando non mancate, e abbiamo già creato e stabilito l'agenda per settimana prossima, quindi 18.45, 19.30 lunedì, Matteo Anelli, Trader Workstation, le Commodities, a seguire martedì alla stessa ora Andrea Arnesano, dove andremo ad analizzare il Black Monday 24 agosto, situazione veramente drammatica a livello dei mercati, andremo ad analizzarla e a vedere come si può trarre vantaggio da queste situazioni, in che modo con le opzioni, presentazione Trading Club 21.21.45 sempre di martedì, come vi dicevo mercoledì appuntamento con gli ordini 18.45 e 19.30, alle 21 fino alle 21.45 di mercoledì ci sarà una simulazione del Trading Club, così toccate con mano quello che andremo a fare per questi due mesi, giovedì invece 18.45 e 19.30 andremo a fare una sessione prettamente operativa, sempre con il mio collega Andrea Arnesano, sulle opzioni e ciliegina sulla torta, giovedì ore 21, Matteo Anelli presenta il nostro Top Trader analista in Forex, Simone Meggetto. Vi ricordo che tutte le registrazioni le trovate a partire dal giorno dopo sul blog, per accedere al blog dobbiamo andare sempre su Community e prendere, stavolta non forum, ma blog, tra tutti gli articoli informativi, news macroeconomiche, informazioni come vedete anche qua in prima pagina, i tassi di interesse americani, tutte quelle informazioni economiche, operative, perché anche sul blog si condividono vere e proprie strategie, operative così toccate con mano, quello che sappiamo fare, come vedete sono presenti anche tutti i video del giorno prima, questo è stato l'appuntamento tenutosi ieri dal mio collega Matteo Anelli, ha fatto un approfondimento sul Forex, se scendiamo ancora più in basso, un altro approfondimento sulle commodities, e così via, domani vedrete questo evento sul nostro blog, quindi mi raccomando, vi voglio tutti attivi, se avete qualche dubbio a riguardo, ovviamente se avete qualche dubbio, ripeto, sezione domande e risposte, così iniziamo a far crescere la community, non aiutiamo solamente il singolo trader, ma dato che il nostro motto e l'unione fa la forza, facciamo il bene anche degli oltre 1700 iscritti, signore e signori, primo webinar, sono quasi emozionato, un caro saluto, vi aspetto tutti quanti stasera, ore 21 con Stefano Corvi, intra dei club, tutti invitati, buon appetito e buon proseguimento.